Yo, Aniki! Io sono Tairanto e adesso vi voglio fare vedere una cosa incredibile Speriamo che Mondialcasa non mi insulti Cioè più che altro non mi insulta, cioè cioè Tairanto vaffanculo Spero che non ci denunciate per favore Don't do it, please don't Cioè se uno mi dice guarda Tairanto tu sei un drogato bastardo Prima di tutto, calmati che non ti ho fatto niente di male Gian Piero Non è che ti ho fatto lo sgambetto, si incazza, e basta Però un po' ha ragione Perché se tu guardi il logo di Mondialcasa Cosa vedi? Vedi un tizio e una tizia vestiti in modo elegante Perché stanno presentando la scritta sotto Ovvero Piero o Angela Però se tu guardi la scritta per più di 5 secondi Succede questo Perché i casi sono due O il tizio sta piccando la mano tutta dritta nella bocca della tizia E lei tutta che sta morendo fa Porca putta Però ci potrebbe essere anche una versione più inquietante In cui il tizio stava innocentemente accarezzando sua moglie Ma sua moglie da un certo punto all'altro è diventato un mostro incredibile Gli ha mangiato la mano E lui dice Quindi Il punto è che Non è Mondialcasa che ti aspetta Quelli che ti aspettano Sono loro Comunque mi serve una grafica fra Uff Aaaaaah